Ci sono molte cose che si possono fare durante il giorno per aver cura del cuore. Seguire una dieta equilibrata, fare attività fisica, evitare il fumo e l'eccesso d'alcol. Herbalife Nutrition ha creato Nightworks, un integratore che combina gli amminoacidi L-arginina, L-citrullina e vitamine. La L-arginina è stata studiata per il suo ruolo di precursore dell'ossido nitrico. Le ricerche dimostrano che di notte i livelli di ossido nitrico sono al minimo. Inoltre, Nightworks ha un alto contenuto di vitamine C ed E, che contribuiscono alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo. La vitamina C contribuisce alla normale formazione di collagene. Nightworks ha anche un alto contenuto di acido folico, che contribuisce alla normale funzione del sistema immunitario e alla riduzione di stanchezza e affaticamento. Per ulteriori informazioni, contatta subito il tuo distributore indipendente Herbalife Nutrition.